Ciao a tutti amici di YouTube, bentornati in un nuovo episodio di Join Rimini. Oggi siamo in un bar pasticceria a far colazione e siamo a Riccione, si chiama Lievita, si trova sulla via Emilia prendendo la rotonda delle vele di Riccione venendo da Rimini, svoltate a sinistra per entrare a Riccione Paese e arrivate poi alla via che vi porta allo stadio. Lievita ha vinto per 6 volte di fila il premio Bar d'Italia, inoltre ha una ampissima scelta di brioche e pasti di ogni tipo e anche delle torte che sono tutte buone, quindi venite a provarle. Abbiamo preso una brioche al cioccolato, una fetta di torta a pere cioccolato, poi una brioche alla crema e un sacchettino con la marmellata di lampone. 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 Allora adesso vi dico come sono le brioche, le brioche sono leggermente burrose come sapore, infatti si vede dal colore giallino della pasta e la crema di questa brioche è alla gianduia, mi è piaciuta molto e la brioche di per sé è molto leggera. Ed è anche un ritrovo per biker che da qui partono la domenica per fare i loro giretti. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao da Joy Reaming!